Il Campobasso apre lo stadio a giornalisti e famiglie, siglato l'accordo con l'Ordine dei giornalisti del Molise, previsto uno sconto sui biglietti acquistati allo store e una giornata open per tutti. Gesto di ringraziamento per la stampa, la società vuole essere sempre più vicino al territorio. Lo ha annunciato il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Molise, Vincenzo Cimino, in una conferenza stampa tenuta nella sede di Via Longano a Campobasso, in cui hanno partecipato il vice Cosimo Santimone, il segretario generale del Campobasso Calcio Mario Collalillo, nonché giornalista iscritto all'Ordine regionale. Il responsabile dell'ufficio stampa, Giacomo Reale, è il calciatore Alessio Rasi. L'Ordine dei giornalisti deve sostenere lo sport e il calcio di questa regione ed è giusto avvicinare i giornalisti e le loro famiglie allo stadio. Era un atto dovuto e la società del Campobasso ha risposto, commenta il presidente dell'Ordine, Vincenzo Cimino. Era un atto dovuto, una società che raccoglie in sé i colori sostanzialmente della regione. L'Ordine dei giornalisti deve sostenere lo sport e il calcio di questa città e di questa regione ed è giusto avvicinare i giornalisti e le famiglie dei giornalisti allo stadio, non soltanto da un punto di vista sportivo, ma anche da un punto di vista sociale, culturale. Era un atto dovuto che dovevamo fare, la società ha risposto. Ovviamente i biglietti e gli abbonamenti sono al minimo, quindi ulteriori sconti non se ne possono fare. Siamo riusciti ad averlo con lo store e siamo riusciti anche ad avere degli appuntamenti dove di volta in volta la società del campo basso calcio aprirà le porte a tutti i giornalisti del Murise. Quindi secondo me è un esempio che anche altri dovrebbero seguire, anche per altre discipline sportive.